La mia vita è la mia vita. Cosa hai detto? Una donna con le palle? Amore, è una frase di un sessismo incredibile. Cioè, parli come un maschio alfa. Però ho già in mente una serie di persone che puoi incontrare che ti possono aiutare. La società è governata da uomini e le leggi le fanno gli uomini. È una questione... Cioè, la logica è ancora una logica di tipo patriarcale, no? Ma che c'è sto microfono? Andava benissimo fino a ieri. No. Gustavo, te la pia non ti ritoccarmi. Ok. Come mai nel mondo del porno ci sono spesso scene dove la donna è sottomessa? Il senso della sottomissione viene dalla lettera di San Paolo. Sottomettiti a Cristo. Sottomettersi vuol dire mettersi sotto per poter sostenere. Il tavolo non sta su se non ci sono le gambe ed è quello che fanno le donne. Se io vengo cresciuta ancora prima di nascere, mi parlano alla pancia di mia madre in un modo diverso se io sono un maschio o se io sono una femmina, figuratevi il genere che profondo è. Guarda dove l'hanno messa. Dove l'hanno messa? Ai piedi dell'uomo. Il posto giusto, lì devono stare. Stai scherzando? Sì, sto scherzando. Guarda, sei veramente un maschilista. Sei stupida. Mi consente, ma non ho capito molto bene. Lei viene? Lei viene? Sì. Sì, ma scusi una volta sola? No, sono due gli impianti.